Il museo è un invito dell'Istituto Beni Culturali a tutti i cittadini a scoprire che cos'erano gli edifici, che vita avevano gli edifici prima di diventare museo. Castelli, palazzi, ospedali, fabbriche, case rurali, ville, tutti questi edifici oggi sono musei perché è molto raro che un museo sia progettato e costruito per essere museo. I musei generalmente sono ospitati in edifici storici e monumentali. IBC, insieme a una ventina di musei della nostra regione, organizza sabato 7 e domenica 8 marzo 2015 una serie di proposte culturali, di iniziative, di eventi che vogliono far conoscere in modo originale la storia dell'edificio e di chi l'ha voluto, costruito, progettato, vissuto oppure vi ha lavorato e lo vuole fare in modo il più possibile stimolante attraverso rievocazioni, attraverso concerti, attraverso spettacoli con l'aiuto di gruppi teatrali, con laboratori particolarmente creativi e speriamo che questo nuovo modo di conoscere gli edifici, di guardare i musei possa essere interessante e soddisfacente. Grazie.